Salve ragazzi e benvenuti in questo nuovo video benvenuti anche in questo nuovo gioco perché come avete detto dal titolo per coloro che mi seguono proprio dagli inizi 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 io aspettavo Fall Guys Mobile sono stato un grande amante di Fall Guys, Fall Guys Mobile non è mai uscito quello ufficiale è uscito però Stumble Guys che io non portai ai tempi ho deciso di portarlo adesso perché vedendo uno youtuber che è Grax che sapete che lui un po' imposta le tendenze del mobile gaming che ha deciso di aprirsi anche lui verso questo nuovo mondo ho deciso perché non farlo neanche io e quindi eccoci qua siamo su Stumble Guys lo andiamo a provare assieme io non ho ancora fatto nessun tipo di partita sono già all'interno del game che non è di Supercell ma è di Katka Games un'azienda del genere vi ricordo lasciare like, iscrivervi al canale, attivare la campanella per non perdervi altri video se volete vedere un altro video di Fall Guys Mobile, Stumble Guys, spacca del tasto di mi piace noi ci troviamo anche in live il pomeriggio di solito verso le 17 e mi trovate anche sui vari social che trovate qua sotto in descrizione andatemi a seguire, a proposito c'è anche il link per abbonarsi se qualcuno vuole farlo ci sono dei vantaggi particolari Stambolino, Stambolino Guys, vorrei andarlo a provare con voi e iniziato anche il nuovo pass a proposito se volete che io magari vada a scioppare poi eventualmente il nuovo pass faccia queste cose qua, robe particolari, fatemelo sapere perché ho una mezza idea di eventualmente poi anche prendere il passolettino andremo a modificare subito il nostro nome, la prima modifica del nome è gratuita gratuita Vapor penso che vada bene, no non va bene Vapor guardiamo se Im Vapor ce l'hanno rubato, se ce l'hanno rubato potrei un attimo inalberarmi ok Im Vapor non ce l'hanno rubato, eccoci qua Im Vapor dentro all'interno di Stambolino Guys, ho cambiato anche il nome andiamo subito a vedere come funziona il gioco oggi è un video un po' dove andiamo a capire tutto la home si presenta con il nostro omino, nella parte di destra abbiamo le impostazioni nel quale possiamo andare a migliorare la qualità delle ombre possiamo andare a modificare lo stick analogico che può essere statico o non statico io prettamente lo metto statico possiamo mettere il gamepad o il touch come dispositivo di input i nomi dei giocatori possiamo metterlo attivo o disattivo io in questo caso lo metterei disattivo perché dà molto fastidio per l'interno del game le ombre le metterei bassa qualità i nomi dei giocatori appunto disattivo il volume del suono lo terrei secondo me così non è male il volume del suono, cioè ci sta, non dà troppo fastidio i comandi si possono poi eventualmente modificare io per adesso li terrei come ce li abbiamo la regione del server deve essere U per rimanere collegati con i vari account dovete collegarvi a Facebook oppure con Apple vi consiglio di farlo così almeno non vi perdete le robe premi gratis c'è la possibilità di guardare c'è la possibilità di girare una ruota della fortuna che come vedete gira e ci può dare delle skin particolari in questo caso non ci darà assolutamente niente ci ha dato oh oh vicino alla legendaria però ci ha dato tre gettoncini che non ci facciamo assolutamente niente ci sono poi eventualmente le pubblicità le cose particolari da andare a vedere vi ricordo ragazzi che c'è questo pacchetto principiante molto molto goloso con 3,99€ ho una mezza idea di andarlo a prendere se lo volete andare a prendere dovete spaccare questo video di mi piace e farlo arrivare dappertutto detto questo andiamo un attimo nel negozio a visualizzare un attimo il tutto abbiamo questa offerta qua che come vi ho detto probabilmente andrò a prendere vediamo un attimo assieme poi che fare possiamo personalizzare il nostro personaggio con scegliere se ragazzo o ragazza ho attualmente soltanto due skin per adesso otterrei questo qua e c'è la classifica con i ragazzi a livello mondiale con i ragazzi con le corone e c'è anche la classifica globale che troviamo già in capo il buon SCP Kovac IT con 343.000 coppe io ne ho assolutamente zero nel tasso delle notizie ci sono le varie notizie che vengono fatte vedete che ci sono dei vari aggiornamenti ne vengono fatti un po' lentamente all'interno di questo gioco così mi è stato detto speriamo che con l'arrivo di più persone possa essere più utile diciamo avere più aggiornamenti ci sono anche dei gruppi e delle cose particolari per gli abbonati che farò in live quindi se volete partecipare eventualmente dovete essere abbonati non voglio perdere troppo tempo andiamo subito all'interno di una partita perché non sono un gran giocatore di questo game voglio capire com'è andata bene la situazione successivo ci dice qua stiamo effettivamente girando deve capitarci una mappa immagino c'è capitata una mappa che si chiama spin go round che dovrebbe essere più o meno simile ad una mappa di fall guys io giocavo a fall guys come vi ho detto dovrei avere delle idee su questa mappa allora magari il nostro personagino si può anche alzare ok non è iniziata nel migliore dei modi però ce la stiamo districando egregiamente bene perfetto ottimo così saliamo sulla rampetta attenzione 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 dobbiamo fare il saltino dell'ostacolo uno e due e tre ok se facciamo il doppio salto allora se facciamo il doppio salto ragazzi abbiamo appunto un doppio salto se invece volete farne soltanto uno basta schiacciare una sola volta ok qua ho fatto qua effettivamente trollato abbastanza oh 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 ma che caspita di giocata ho fatto let's go ragazzi let's go ok ho fatto la cavolata l'ho trollacchiata l'ho trollacchiata tutta ho trollacchiato tutto ok olè 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 dai che andiamo a qualificarci olè olè signori il vapor come si tuffa verso il traguardo ok primo round passato qua adesso stile Fall Guys l'unica differenza vera con Fall Guys sono le lobby che su Fall Guys sono da non so se lo sapete sono 32 su questo gioco qua invece su Fall Guys sono da 100 quindi sicuramente lobby meno pesanti secondo me è un bene devo dirvi la verità non è non è male il fatto di avere meno lobby adesso in teoria dovrebbe poi ripartire un altro round automaticamente infatti vedete che adesso c'è un'altra scelta della mappa perché sono state eliminate 16 persone adesso ci sarà un'altra mappa che si chiama Tile Fall ah ok questa qua è tipo Tip Toe per quelli che giocano a Fall Guysino c'è una mappa molto simile che si chiama appunto Tip Toe e in questa qua sostanzialmente dobbiamo andarci a buttare e trovare la diciamo il percorso giusto ok in questo caso non abbiamo trovato assolutamente niente di giusto abbiamo trovato però una schifezza ok ok mi sembra un'ottima cosa mi sembra un'ottima cosa ok è palesemente questo non era questo sono un cane sono veramente un testa di cavolo ok il tricchettino per tricchets lo provo no 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 ho aperto la mappa a tutti ho aperto la mappa a tutti ti prego ti prego ti prego no 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 ti prego ti prego ti prego non vi qualificate non vi qualificate ci sono ci sono ci sono anch'io no mi si è buggato tutto non ci posso credere e il vapor la perde in questo modo e il vapor la perde in questo adesso molti di voi si chiederanno come fare bisogna schiacciare il tasto partire in basso a destra quello rosso ci vengono date delle coppe ci viene dato di tutto l'unico problema di questo gioco è la pubblicità infatti andrò a sciuppare questo diciamo pacchettino perché c'è la pubblicità all'interno di questo game ed è abbastanza fastidio detto questo noi ci vediamo in un prossimo video di Istanbul Guys ecco voglio voglio darvi questa promessa voi però fatemi vedere tanto supporto che mi volete dare iscrivetevi al canale attivate la campanella se vi siete persi altri video li trovate all'interno del canale all'interno delle playlist robe particolari sono mi piace gioco che mi piace secondo me gioco fresco c'è un po' c'è bisogno di staccare un po' da idee e idee naturalmente rimarrà sul canale se questo gioco va molto bene potrebbe essere poi eventualmente rimpiazzato noi ci vediamo domani alle 14 per quelli che non ci sono oggi pomeriggi in live perché oggi forse riusciamo ad andare in live verso l'ore 17 ciao belli ciao 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 ciao